105 milioni di euro per la nuova Pescara e per i comuni con più di 100 mila abitanti che hanno avviato la fusione. Un vero e proprio tesoretto assegnato grazie all'emendamento approvato all'unanimità dalla commissione preseduta dal senatore Luciano D'Alfonso. 10 milioni di euro all'anno per 10 anni e 5 milioni per il 2023 che complessivamente diventano 105. La nuova Pescara prevede la fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore che hanno complessivamente più di 192 mila abitanti e che coinvolge circa 94 chilometri quadrati di superficie. Il presidente della commissione finanze e tesoro Luciano D'Alfonso parla di un risultato irripetibile che permette di fare le prime 10 mosse fondamentali. Afferma inoltre che la nuova Pescara diventa un cantiere di intrapresa dieta beta, batte 4 a 0 Giamburrasca e adesso si può procedere con discernimento e risolutezza, senza frettolosità commerciale ed ingannevole da Vannamarchi. Un emendamento che accanto alla nuova Pescara permette di prendere per mano i nuovi cittadini adriatici e illustrerà tutti i particolari nel corso di una conferenza stampa in programma venerdì prossimo. L'avvocato Francesca Carnoso, portavoce del circolo PD Nuova Pescara, afferma che si tratta di una straordinaria iniezione di liquidità a favore dell'avvio concreto e fattivo di tutte le attività preliminari e funzionali all'avvio del processo di fusione dei tre comuni della nuova Pescara, le cui gambe oggi sono più solide che mai per i necessari passi da compiere, con attenzione massima e tempistiche curate per la costruzione della nuova identità adriatica. L'emendamento, afferma del senatore Luciano D'Alfonso, nell'assegnare priorità nello stanziamento di fondi ai processi di fusione aventi maggiore anzianità, aggiunge l'avvocato Carnoso, scioglie definitivamente ogni spauracchio in rinvio del processo derivante dalla mancanza di fondi. Si lavori ora collettivamente nei rispettivi livelli di governo per queste risorse, ben 105 milioni di euro, così sapientemente individuate, conclude l'avvocato Carnoso, e siano rilasciate sul territorio con la consapevolezza del fare responsabile.